Presidente, questa mattina c'è stata una riunione importante, qual è il suo esito? L'esito penso che sia positivo un po' per tutti perché c'è stato questo tavolo dove c'erano nello stesso tavolo praticamente le autorità del comune con i rispettivi tecnici, quindi con l'assessore di Stefanesi e c'era la capitaneria, c'era presente l'ASET e c'erano i rappresentanti di un'azienda, la Miro Sub di Roma che è l'azienda che per noi ha seguito la rilevazione del rischio che abbiamo fatto nella parte marina questa è un'azienda che è autorizzata sia per farlo nella parte a terra che nella parte marina e dietro in pratica consulto con questa azienda abbiamo praticamente proposto alle autorità presenti di proseguire gli scavi con l'assistenza tecnica di questi signori che dovrebbero di metro per metro analizzare il terreno e capire se effettivamente ci sono dei rilevamenti di ulteriori ordini e quant'altro questa cosa fa parte comunque delle norme e quindi è una cosa perfettamente autorizzabile e ho visto che in pratica anche da parte della capitaneria c'è stata una sorta di assenso a questo genere di soluzioni quindi intanto possiamo iniziare anche subito i lavori perché i cantieri sono liberi da questo punto di vista chiaramente faremo i lavori nelle parti che non necessitano di questo genere di attività nel momento poi una volta che avremo predisposto il piano di azione con questa azienda continueremo i lavori anche nell'ultimo tratto perché si tratta in pratica di una ventina di metri forse anche di meno dove dovremo insabbiare per circa due metri il tubo che poi invece verrà solamente appoggiato sul fondale e anche se tratta in pratica di metri forse anche se tratta di un'ultima